Diciamo due parole sulla biografia di Sant'Agostino, il quale nasce nel 354 a Tagaste, che è una città della Numidia. La Numidia oggi corrisponde all'Algeria, grosso modo, e muore nel 430 a Ippona, sempre in Numidia. La madre è una fervente cristiana, però Agostino si avvicinerà al cristianesimo soltanto passati trent'anni. Da giovanissimo convive per un certo periodo con una giovane donna e ha un figlio, un figlio illegittimo, avuto quando aveva soltanto 19 anni. Ricorda lui stesso questa storia sentimentale e il fatto di aver avuto un figlio che è nato fuori dal matrimonio, perché lui non si sposò mai con questa donna. Ecco, parla di questa vicenda, così come anche di altre, nelle Confessiones, che sono una delle sue opere più famose, forse la più famosa, in cui rievoca molti episodi della sua vita su cui riflette, su cui riflette in maniera molto profonda. Ecco, appunto, a proposito di questo rapporto, riflette sul fatto che sulla differenza tra un rapporto non basato sul matrimonio, quindi non finalizzato a procreare, e invece un legame come il suo, che era un legame puramente sensuale, e da cui poi però, ecco, nacque un figlio, ma che non era programmato, non era voluto, non era desiderato. Sempre a 19 anni, però avviene anche un altro incontro fondamentale per Agostino. In questo caso si tratta della lettura di un libro. Lui legge L'Ortensius di Cicerone. È un dialogo, che è andato perduto e quindi noi non possiamo leggere, ma che Cicerone scrisse come introduzione alla filosofia, per motivare l'importanza dello studio filosofico, per stimolare i romani allo studio delle discipline filosofiche. Ecco, questo dialogo lo affascina e in lui nasce un vero e proprio, prima una crisi spirituale, e un amore nasce in lui, un amore per la filosofia, per gli studi filosofici. Ed è proprio in questi anni che con l'avvicinamento alla filosofia nasce anche il suo rapporto con il manicheismo. Il manicheismo è una dottrina religiosa e filosofica che innanzitutto considera la storia, la creazione, la storia, il destino dell'uomo, il destino dell'universo determinato dalla lotta tra il bene e il male. Quindi ci sono questi due principi antagonisti da cui dipende tutto il destino dell'umanità e dell'universo stesso. E quindi è una religione, una dottrina che si basa fondamentalmente su il contrasto tra i due poli antagonisti, tra due poli antagonisti, e legge tutta la realtà alla luce di questo contrasto. Però è anche una dottrina che cerca di conciliare le esigenze di trascendenza, che sono chiaramente proprie di ogni religione, con il razionalismo, con le conoscenze filosofiche, potremmo anche dire tra virgolette scientifiche. Infatti in Occidente questa disciplina assume caratteri neoplatonici molto marcati, proprio perché appunto cerca di armonizzare quella che è l'idea della trascendenza e l'aspirazione religiosa alla dottrina filosofica. E quindi in Occidente in particolare assume questa fisionomia, no? Marcatamente neoplatonica. In seguito alla sua preparazione culturale, nella sua formazione, nel suo interesse anche per la filosofia, inizia a insegnare. In realtà insegna grammatica, retorica, però ecco, chiaramente aveva una preparazione molto solida dal punto di vista culturale. Insegna a Tagaste, a Cartagine e poi si trasferisce a Roma e inizia a insegnare anche a Roma, a partire dal 384, dove accetta una cattedra di eloquenza. Poi gli viene proposto di insegnare a Milano e quindi si trasferisce a Milano dove vive per circa tre anni, dal 384 però 387. Ecco, questo è un periodo altrettanto significativo, perché è proprio in questi anni che avviene la sua conversione al cristianesimo. Cosa succede a Milano? Beh, innanzitutto frequenta circoli neoplatonici, quindi chiaramente continua a coltivare il suo interesse per la filosofia italiana e anche, però chiaramente questo rivela anche interessi per la religione, per la trascendenza. In particolare però, e questo è determinante, a Milano ascolta le prediche di Sant'Ambrogio. E questo lo influenza moltissimo, ma non è solo questo che lo influenza. A Milano arriva la madre che si trasferisce per vivere con lui insieme al figlio di Agostino e la madre sappiamo che era cristiana, cristiana molto convinta. Allora ecco, lui dai colloqui di Sant'Ambrogio rimane molto influenzato, poi parla con la madre cristiana di ciò che ascolta dalle parole di Sant'Ambrogio ed ecco che avviene in lui una maturazione, una vera e propria conversione al cristianesimo. infatti si fa battezzare, lascia l'insegnamento e torna in Africa insieme alla madre e al figlio, anche se la madre poi morirà durante il viaggio di ritorno. E quando arriva in Africa si dedica alla vita monastica, quindi segue oramai la sua vocazione religiosa. Tant'è vero che nel 391 viene ordinato prete a Ippona, siamo sempre appunto in Algeria come dicevamo prima, e qualche anno dopo diventa addirittura vescovo di Ippona e come vescovo di Ippona si dedica a combattere anche molto asperamente le eresie che chiaramente si stavano diffondendo molto ampiamente un po' in tutti i territori dove si era diffuso il cristianesimo. Però è un periodo questo caratterizzato da avvenimenti storici molto traumatici. Infatti nel 410 avvenne il sacco di Roma da parte dei Visigoti e questo fatto influenzò moltissimo l'immaginario dei contemporanei perché insomma Roma la città eterna, la città che Caputmundi, la città che aveva conquistato il mondo per la prima volta nella sua storia viene saccheggiata e conquistata, insomma saccheggiata fondamentalmente. È vero che c'era stato un saccheggio in epoca ancora repubblicana da parte dei Galli ma questo fatto fu particolarmente sconcertante. Agostino viene molto colpito, traumatizzato da questo avvenimento e nel 430 proprio l'anno della sua morte, la sua morte avviene proprio mentre Ippona, la città in cui lui abitava, è assediata dai vandali. Quindi ecco gli ultimi anni della vita di Agostino sono dominati da questo clima apocalittico, da fine del mondo, ecco Roma che viene saccheggiata e poi l'ondata delle popolazioni barbariche che si abbatte anche sul Nord Africa. Bene, diciamo adesso qualcosa delle opere che Agostino ha scritto. Agostino fu un autore molto molto prolifico, scrisse oltre 1030 opere scritti in generale perché appartengono a diversi generi, adesso vedremo quali. Fra queste opere però non dobbiamo considerare soltanto libri veri e propri, trattati, libri veri e propri, ma inseriamo anche le oltre 200 lettere che lui scrisse e pubblicò e anche le cosiddette omelie, cioè insomma discorsi che lui teneva durante le funzioni religiose o anche in altre occasioni che superano il numero delle 500 omelie. Quindi appunto uno scrittore veramente prolifico e che si è dedicato a moltissimi generi perché troviamo fra queste opere di carattere autobiografico come ad esempio le Confessiones di cui poi parleremo, poi abbiamo delle opere filosofiche, delle opere apologetiche come il Decivitate Dei, la seconda opera di cui parleremo, parleremo solo di queste due nello specifico. Poi ho scritto delle opere dogmatiche, delle opere polemiche, delle opere di carattere morale, delle opere esegetiche, cioè delle opere che vogliono analizzare, commentare e far luce, dal punto di vista teologico, su passi dell'Antico Testamento o del Nuovo Testamento, quindi insomma di testi cristiani. Poi come dicevamo, moltissime lettere, moltissimi sermoni e anche opere poetiche.